In Campania la scuola inizierà il 24 settembre, una scelta anticipata da tempo all'assessore regionale all'istruzione, politiche sociali e giovanili Lucia Fortini, ma dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni dei genitori che si è tenuto ieri ha assunto i crismi dell'ufficialità. Una decisione, ha dichiarato l'assessore, presa con rabbia ed amarezza, ma non c'era altra possibilità. Aprile il 14, come ha suggerito la ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l'inizio delle elezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi. E questo non è serio per i docenti, per gli studenti e per le famiglie. Mai come quest'anno, che ha così profondamente ferito il mondo della scuola, il ritorno tra i banchi deve essere un momento solenne. L'istruzione è un diritto e dunque lo Stato ha il dovere di tutelarlo e di garantirne sempre l'esercizio, anche prima delle elezioni. Insomma, nei giorni scorsi il ministro Azzolina, annunciando l'avvio del nuovo anno scolastico per il 14 settembre, aveva detto che avrebbe trovato una soluzione con la Campania. Soluzione che evidentemente, anche per i motivi elencati all'assessore Fortini, non è stata trovata. Quindi, in Campania, l'anno scolastico inizierà ufficialmente il 24 settembre.